Sei un designer d'interni, architetto, ingegnere o professionista del settore dell'arredo? Stai cercando una maniglia che si adatti al tuo progetto senza rinunciare a qualità e design al giusto prezzo? Pasini ti offre il lusso accessibile made in Italy, tradizione ed esperienza, ampia varietà di modelli di maniglie, maniglioni e accessori per porte e finestre, capaci di risaltare l'anima del tuo progetto. Contattaci adesso e approfitta delle nostre offerte speciali per professionisti dell'arredo. Maniglie, maniglioni e accessori per porte e finestre, protagonisti del tuo vivere quotidiano nel segno della più autentica tradizione italiana. Pasini, Italian Luxury Endless. Grazie. Grazie.